Comincia la bella stagione e cominciamo ad alleggerire i piatti, così ci alleggeriamo pure noi. Senti, te lo dico così, io in video uso lo zucchero, vero che ne uso poco, ma lo uso. Però, se becchi l'ananas, bello dolce e maturo, puoi anche tranquillamente saltarlo. Oggi prepariamo una merenda leggerissima, va bene sia per i grandi che per i bambini, e va bene pure se sei intollerante al glutine. Cose! Oggi prepariamo il budino all'ananas, una goduria incredibile, è buonissimo. Mmm, proprio buono. Cosa! 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 A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto.